poi c'era uno che aveva il medagliarino e dice tutto tutto ma come fai io mi piace io c'è sempre fermi come fai? non so che fai? c'è accattato a mezzo giro e dice rosa da un bacco di cristino e fa la culetta e fa nasce rosa è un cristino nasce rosa è un cristino nasce rosa è un cristino mi piace ma come fai? se non ho mangiato tanto ti fai per una settimana di cura e lo fai per una settimana e poi c'è accattato a mettere una cerasa a un cristino una cerasa a un cristino a un certo punto dice ma oggi frutta niente solo il cristino e ci sono perché lui mi sapeva più tanto con la cerasa perché il cristino non è che ci ha bisogno tanto ma ci ha messo solo il cristino ma oggi frutta niente solo il cristino e ci sono io oi oi Oh yeah